I romani hanno voglia di esprimersi, se lo vogliamo fare anche in altre città sono contentissimo perché più i cittadini partecipano e costruiscono il cambiamento, meglio è. Io non faccio un passo indietro, ne faccio cinque. Se ci interessa vincere, andare avanti con cinque candidati, un'offesa all'intelligenza dei romani centrodestra. Se ci interessa vincere, si siede intorno a un tavolo, si riascolta dei cittadini e il nome, il programma che viene fuori è quello che io sosterrò.